Sono giunti alla fine i lavori di sistemazione del camminamento dei passeggi polmone verde della città diversi interventi messi in atto dal comune al fine di migliorare la qualità e la vivibilità del posto oggi tra l'altro versi in condizioni sicuramente anche più fruibili e decorose viste che siamo intervenuti nei due controviali sia con il rialzamento di quelle che erano le caditoie ma anche con il ripristino di materiali inerte che è un breccino molto più sottile quindi che creerà una fruibilità maggiore e una messa in sicurezza. Oltre questo stiamo ripristinando, ripristineremo a giorni non appena arriveranno i mattoncini anche la passeggiata adiacente al chiosco che i bambini avevano naturalmente danneggiato togliendo dei massi. Prossimi interventi riguarderanno i servizi digitali, telecamere e panchine intelligenti ovvero delle sedute comprese di pannelli fotovoltaici capaci di ricaricare telefoni, attivare le reti wifi e illuminarsi durante le ore notturne. Un'altra innovazione che è pronta ad accogliere questo parco è proprio il progetto di Enel che metterà a disposizione un'area tecnologica super accessoriata con l'installazione di due panchine che sono dotate di wifi, hanno un impianto di defibrillatori, hanno un impianto di ricarica per quanto riguarda le biciclette elettriche e anche postazioni per le stesse e sarà un'area che verrà poi videosorvegliata in quanto tale. Inoltre l'assessore Brunori ha rivolto un invito al Consiglio dei Bambini e delle Bambine della città al fine di valorizzare il parco dei passeggi. Ho richiesto loro di fare una progettazione partecipata immaginando questo parco come parco delle meraviglie per cui a partire da settembre dalla rifunzionalità delle loro attività lavoreranno proprio sul progettare insieme al meglio questo parco a loro misura rispetto a quella che potrebbe essere una buona giocabilità e un'immaginazione, una creatività che è solo loro.